Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno inflitto l'ennesimo duro colpo alla criminalità organizzata regina, smantellando l'intera organizzazione criminale dedita a reati inerenti agli stupefacenti. I militari della Compagnia di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in carcere agli arresti domiciliari e reali di sequestro preventivo emessa dal giudice per le indagini preliminari nel Tribunale di Reggio Calabria. Nei confronti di dieci soggetti, tutti i reggini accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla produzione e al traffico di droga e di illecita detenzione spaccio e produzione di sostanze stupefacenti. La misura cautelare in carcere è stata emessa nei confronti di Di Grande Domenico, detto Mimone, classe 59, Valentino Buzzan, classe 60, Roberto Bevilacco, 84, Giuseppe Simone, 74, Domenico Genoese, Zerbi, detto Nico, classe 71, Fabio Puglisi, classe 79, Carmelo Tommasini, 87, Fedele Zaminga, 76, Sebastiano Trunfio, 82, mentre quella agli arresti domiciliari è stata emessa nei confronti di Carmelo Gatto, classe 89. L'organizzazione criminale scardinata aveva una tipica struttura piramidale con ruoli interni ben definiti. Di Grande e dal Buzzan, capeggiatori dell'associazione, effettivi promotori e dirigenti dell'associazione a delinquere, oltre a sovrintendere i lavori di coltivazione delle numerose piante di cannabis, si adoperavano per la ricerca dei terreni e degli altri spazi su cui avviare i lavori di produzione dello stupefacente in house, tenevano in contatti tra tutti i membri dell'organizzazione, cedevano personalmente la marijuana prodotta ad una selezionata clientela o ai vari pusher appartenenti al gruppo criminale e incaricati dalla vendita al minuto della droga. Gli altri membri dell'organizzazione si occupavano in vero prevalentemente di cedere la marijuana al dettaglio, procurare all'associazione nuovi clienti, fare da intermediari tra i capi dell'associazione ed altri soggetti nelle cessioni di stupefacente caratterizzate da un valore particolarmente elevato, coadjuare i propri superiori nella materiale attività di coltivazione e cura delle piante di cannabis.